Le travi dei puntellamenti che proteggono il Palazzo della Rengo, la civica residenza di Ascoli Piceno, parlano del sisma che ha colpito duramente anche la città, a 40 chilometri circa dalla devastazione di Arquata, Cumuli e Amatrice. Ascoli conserva la sua bellezza secolare, ma conta le ferite delle scosse a partire da quelle del 24 agosto 2016. In città le verifiche sugli immobili stanno terminando proprio in questi giorni. Si contano 1700 ordinanze, mentre attualmente sono circa 2300 gli ascolani su quasi 50.000 ad essere in contributo di autonoma sistemazione in affitto, in attesa dei lavori nelle case segnate dai terremoti di 18 mesi fa. Siamo quasi vicini al punto d'arrivo, ma c'è da dire che obiettivamente un anno e mezzo per fare le verifiche sono state troppi, troppi veramente, comunque non è il momento della polemica ma della ricostruzione. Noi abbiamo circa 1700 ordinanze già sottoscritte, se ne aggiungerà qualcuna, mancano ancora 50 aggregati, abbiamo circa 2300 ascolani che sono stati costretti a lasciare le proprie cause. Però ora cominciamo a vedere che le messe in sicurezza, anche quelle che più avevano preoccupato gli ascolani, sono state fatte o sono in corso. Ascoli è la città delle torri, in particolare questa settimana sta iniziando la messa in sicurezza definitiva delle due torri merli, quelle che incomono proprio sulla scuola elementare di Sant'Agostino, che determinarono tante ansie, tante paure in capo alle famiglie. Tanto è vero che dovemmo allestire una sorta di tunnel protetto per consentire ai ragazzini di entrare in totale sicurezza. L'Università Politecnica di Torino sta approntando tutto il progetto che è di rinforzo di strutture che non rischiano il crollo ma che hanno delle lesioni rispetto alle quali ci siamo voluti muovere con il contributo massimo della tecnologia. Ata rimane il problema della conformità degli immobili che per poter essere ammessi a contributo devono essere regolarizzati dal punto di vista urbanistico, nel caso ci siano delle incongruenze e in particolare dei piccoli abusi. Questo è un tema centrale perché il 90% degli immobili lesionati dal terremoto ha dei piccoli abusi che oggi impediscono che la ricostruzione possa andare avanti. Da questo punto di vista dobbiamo cercare di velocizzare le procedure di sanatoria perché diversamente moriremo di media sotto il peso di una conformità urbanistica che è merce piuttosto rara.